gli sfratti e dare inizio alla sanatoria che è ferma dal 2006. L'ultima sanatoria fatta dall'Ader risale al 2006. Questo è il lavoro che stiamo facendo noi, abbiamo varie documentazioni che non ho portato perché erano ingombranti e qualunque cosa gli abitanti delle case Ader possono chiedere, noi stiamo a via Montepadulo 4C il martedì e il venerdì, le problematiche che hanno possono essere portate lì, io le raccolgo e quando vado nella commissione della regione porto queste istanze dei cittadini anche per avere delle risposte da parte della regione. Comunque adesso ci stiamo muovendo sul decreto lupi che alcuni prendono sotto gamba ma il decreto lupi non viene attuato perché mancano dei decreti attuativi e quello è veramente una mannaia che pesa sulle teste degli inquilini Ader perché la proposta del decreto lupi è che ti offrono di comprare l'appartamento Ader magari in palazzi fatiscenti a prezzi di mercato, se tu non puoi comprare perché non puoi chiedere il mutuo perché hai un lavoro solo perché selezionata, loro l'appartamento lo prendono e te ne danno un altro in qualunque punto ci sia, però noi sappiamo che l'edilizia popolare è ferma, quindi è tutto un punto interrogativo, escono dal decreto lupi solo due categorie che sono i disabili e gli anziani superiore alle comunità è superiore ai 75 anni, tutti gli altri rientrano in questo decreto, quindi noi stiamo cercando in regione di portare avanti questa cosa, parlare del decreto lupi, parlare del blocco degli sfratti che anche nel nostro municipio stanno accadendo come in altri municipi e chiedere la sanatoria in modo che le famiglie che sono entrate, stanno vivendo negli appartamenti Ader vengono risanate naturalmente avendo i requisiti giusti per abitare in un appartamento dell'Ader, questa è la storia che noi stiamo affrontando come Movimento 5 Stelle, affiancati anche da Asia, USP che si occupa di queste cose e collaboriamo, andiamo a sentire anche le proposte che vengono dal gruppo che si è formato nel terzo municipio che è giù le mani dalle case popolari, quindi lavoriamo a 360 gradi, non è che stiamo chiusi nella nostra roccaforte, apriamo a tutti quelli che vogliono il bene del nostro territorio.